Un giusto equilibrio tra gioventù ed esperienza con il filo conduttore della competenza l'ha definita così il neo sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Angarano, la giunta comunale presentata a Palazzo Tuputi nel Salone degli Specchi nel corso di una conferenza stampa. Io credo di aver trovato in queste settimane un giusto compromesso tra esperienza e freschezza, novità, voglia di iniziare una sfida nuova. Abbiamo detto tante volte che le esperienze e le competenze sono importanti anche durante la campagna elettorale, però se non diamo poi a qualche giovane la possibilità di lavorare sul campo questa esperienza non riuscirà mai a farsela. Ovviamente i giovani non verranno lasciati soli, verranno seguiti, ci è un consiglio comunale che è inedito ma che darà un contributo importante al lavoro degli assessori e quindi credo di aver trovato questo giusto compromesso tra esperienza e competenza e forze giovani ma soprattutto credo di aver trovato le persone giuste per ricreare quel rapporto sinergico tra l'indirizzo politico e poi la gestione amministrativa, quel raccordo che negli ultimi anni è mancato.